Tu hai compratto? Guardate qualcosa. Sì, sono andate... Cosa vuoi? Sì, non vuoi esistere perché non sono mai stata portata. Sempre penso, sì, questa volta ci va. Ho chiuso, ho chiuso... Ci sono queste ferie a fine agosto, queste cose... Sempre... Quello è vicino a Panto? Sì, sì, perché c'era... Mi sento te, scusami. Perché appoggi qui... Non hanno un grigio molto scuro, un bianco e un colore champagne. Tutto vale, ma non... Tu lavori sempre sul grigio? Non sempre perché... Perché a volte lavoro anche su colore come tabacco. Più tabacco che quello. E a volte su colore champagne, come champagne, un po' più verde che questo. No, 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 no. A volte è anche sul bianco. Sul bianco anche. Quando faccio carboncino, per esempio, sul bianco. Quasi sempre sul bianco. Quando faccio... Quando faccio... Disegno a carboncino... O pastello in bianco e nero... Anche faccio... Comincio carboncino e... E finisco con... Con pastello... Con pastello... Con pastello grigio. Bianco, nero, grigio. Anche faccio... Allora faccio... Ho un premio... Ho un secondo premio nazionale, però l'olio in bianco e nero. Lo... Dopo, dopo, perché... Finisce, finisce, grazie. Grigio. Grazie. 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 A Trastevere non ce l'hanno scura. A Trastevere non c'è solo quella chiara. E Trastevere invece c'è solo quella scura. Mentre quella via del Gesù li poggi questa mattina si no chiara mezza chiara mezza. Se ci vuoi fare un salto a via del Gesù. Il Gesù è vicino al Pantano vicino al Pantano. Hanno o non hanno? Bisogna andarla a vedere. Secondo me ci hanno capito poco. Sì. Oppure sai quando stai lì comunque valuti se è giusto o no. Se c'è un altro. Sì. Sì. Davvero? Davvero? Sì. Allora questa che si muovono. Non c'è un momento. Sì. 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 Cinco minuti in più. Sì. 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 P clerico. Eeeh. Cosa ha detto della pasta in parco? Ehi. Gli altri non ce l'hanno. Oggi stamattina non mi ricordo bene. No. Oggi stamattina credo che oggi del... come si diceva del Panteo che aveva un altro... che è quello grazie 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 tanto stai usando i bianchi vuol dire non è bianco grazie 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 domani domani finisci Grazie a tutti.